Quante volte, mentre siamo a letto, cerchiamo il telecomando per accendere o per spengere la televisione? Molto spesso non le troviamo perché è in mezzo alle coperte, perché è caduto per terra. In questo caso, Ikea ci offre una soluzione molto, molto semplice. Inizialmente è utilizzata per i divani, quindi per il soggiorno, ma che può essere tranquillamente utilizzata anche in camera da letto. Si tratta di questo prodotto qua, che può essere agganciato alla testata del letto, senza minimamente intaccare l'estetica del tuo letto, all'interno del quale tu puoi comodamente inserire il tuo telecomando e quindi trovarlo sempre quando ne hai bisogno.